Buona la prima per il Gela di Pippa Romano che nel primo turno di Coppa Italia fa su il derby contro la Sangataldese, un deburto fortunato per la squadra biancazzurra che davanti al pubblico amico vince, seppur soffrendo, e solo ai calci di rigore il match contro la Sangataldese di Rosario Marciano. Una vittoria diciamo sofferta per campanare compagni che nonostante una via di gara di certo non entusiasmante sono riusciti nell'impresa di ribaltare le sorti del match portando i rivali sino ai tiri dal dischetto che come da regolamento di Coppa si sono giocati al termine dei tempi regolamentari finiti in parità per 2-2. Decisivo, alla fine il calcio di rigore è parato dall'estremo difensore del Gela, Biondi, che ha fissato il punteggio finale sul 4-3 per i padroni di casa. Match subito in salita per il Gela, al sesto la Sangataldese si porta in vantaggio sui sviluppi di un corner e Costanzo a colpire indisturbato di testa e a spedire il pallone alle spalle di Biondi. Trascorrono appena due minuti ed arriva immediata la reazione del Gela che pareggia Conti con Gallonna il quale lascia partire un diagonale che si insacca all'angolino della porta difesa da Serenari. Al 24esimo Campanaro, che poco prima aveva colpito il palo, atterra Ficarotta in area di rigore, un'ingenuità che costa il nuovo vantaggio della Sangataldese e lo stesso attaccante verde amaranto a calciare dal dischetto. Nella ripresa i biancazzurri appaiono poco lucidi e non al meglio della forma. Nei minuti finali del secondo tempo, tuttavia, ci pensa Dorato a riequilibrare il match. In seguito al palo, colpito da Bonanno, l'attaccante argentino, su ribattuta, punisce l'estremo difensore verde amaranto. Si va ai calci di rigore. Dal dischetto hanno la meglio i biancazzurri, che mettono a segno quattro gol contro i tre degli avversari. In settimana si conoscerà l'avversaria del Gela al prossimo turno di Coppetaria. Intanto, domenica prossima, comincia il campionato. Il Gela ospiterà a Vincenzo Presti il Roccella. Intanto, domenica prossima.